... chi è che fa la chiamata con Francesco? No, non fai la chiamata? Nazianino, Marco, fai sentire la tua voce, è voce di suono, fai sentire la chiamata. Accompagni Francesco, per sentare la torre. Accompagni Francesco, per sentire la torre. Accompagni Francesco, per sentire la torre. Quando si abbassa il fuoco, ricordatevi che prendo un legnetto. Quando il legnetto che avete preso si spegne, si mette in fila. Uno, due, tre, quattro, cinque, 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 cinque. Però i nini vanno letti quando il fuoco si è abbassato. Per cui mettetevi in tasca, proteggete il nino. Per cui mettetevi in tasca, cinque, 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 cinque. Per cui mettetevi in tasca, cinque, cinque. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 e si avvolgono e si avvolgono a Enes e si portasse in attraverso a Enes e si presentarono a Enes. La più generata tra le fitte, che accendessero al basso la prima versata dove si vede e si chiedevano, e non con vana ricompensa si ripagò di favore la Dea, ma il punto del nome che succede e chiamò. Questo non vedi dal corpo del cauto di Cristo e l'Ebreo, e quindi provo a Enes e l'Ebreo e da esso l'anima politica. E' un'epoca di veloce di Caonia. Quando si viene da ciò portandosi a Enos, Padre Zeus, la lingua, era teneo nei pressi di Enos, e poi, come io, non vi dico di cave. Perciò, a quella piena di pompe dica, allora darlo il nome di Doni. E' un'epoca che si vedero il braccio dai colibanti, dai colibanti compagni, delle mie fitte, e di quello Andra, che non si riparata, e intorno a te, da starono vivati pure, e la scuola, che non si riparata, e dici, battendo le armi, battendo le orecchie di trono, questo rinco Nee, che ne sussurri, nello tipo di dispero e non di suono di un pacífico. Grazie. 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 Questo è il rito, il rito dell'equinozio di primavera, il rito della nascita, della nostra nascita. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie! Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.